benvenuti siamo qua con gaia ciao monica ciao elena ciao 5 4 3 2 1 i temi come la vedete allora io la vedo seduta su una grossa sedia imbottita di porto ea tutti i bordi d'oro color oro che è un po stile vittoriano un pochino che è una bella sedia possente e lei seduta lì ea questa paura queste paure quasi terrorizzata perché si sente di fronte a al patibolo di fronte a qualcuno che la deve giudicare si sente messa sotto giudizio cioè come se fosse colpevole sta aspettando la sua pena monica è interessante perché c'è qualche collegamento così sembrerebbe quasi la regina maria antonietta no che aspetta sulla sua sedia di lusso no per andare al patibolo e a me mostra un altro aspetto dell'essere regina che è proprio all'insegna del suo nome che lei che lei ha scelto gaia no che è poi terra lei mi si manifesta nuda completamente nuda però ricoperta da tantissime varietà di fiori e mi fa vedere proprio come se fosse madre natura e il concetto della madre per lei è importante proprio in tutti gli aspetti no e davanti a lei mi fa vedere tipo un vaso con dentro un cactus grande a tre braccia fatto di tre bracci ti dà l'autorizzazione monica si toglie un fiore da dietro la testa e lo butta verso di noi ringraziando sì grazie dall'autorizzazione elena si si dice si proprio sì ok elena poi monica vibrazione 18 miliardi 21 consapevolezza 127 142 ps 38 42 vite 1926 sì circa 1931 si cervello 8.8 9 nome monica del progetto di gaia curiosi di kill the cat perché lei è veramente allora a dispetto di questo suo aspetto un po insicuro che vuole manifestare lei è una persona estremamente curiosa con le antenne vibranti e però a volte la curiosità insomma no l'ha portata anche in certe direzioni che le hanno fatto sia bene che male e che le hanno portato sia buoni frutti che frutti amari e non si è conformata alla vita che avrebbero voluto che lei facesse no quindi la curiosità l'ha portata avanti in altre direzioni a non fermarsi a quello che altri avrebbero voluto per lei nome della ps monica venere della via palosanto elena psp in sala tira d'oro la ps e la p e ombrello nome del progetto fungo atomico appare come enorme fungo però c'è proprio il gambo tipo così tondo ok e poi sopra un cappello il suo la sua direzione sarebbe questa di andare in alto di prendere tutto ciò che si può prendere trovare il senso e arrivare all'essenza personale ma viene bloccata da una da una cupola da un cappello elena entità eteriche allora c'è questo si presenta questa figura che sembra quel personaggio di harry potter quello con i capelli neri lunghi non mi ricordo il nome non sono sicura che non avrò con una bacchetta fa così ti continuo davanti a gaia come per dire sta attenta se non fai come devi ti pacchettiamo poi c'è severus beaton colori si è andato zero no c'è collegato al secondo al secondo universo poi sempre il secondo universo c'è questa specie di sia una specie di un coccodrillo un po ciccione con due teste collegato al secondo universo poi c'è zeus seduto su un trono ci sono due uomini del tempo e c'è un una via di mezzo tra un insetto e un leone alla testa da leone ma il corpo tipo insettoide basta che monica si si confermo l'unica cosa nel secondo universo io ho visto tipo un unico che che forse sintetizzava due perché era tipo un tapiro con sta coda che la sbatteva quasi in maniera ipnotica da incantarla hai capito in modo da non farla scegliere autonomamente no da seguire la sua coda se anche se fosse edl entità mentali monica tutto su mia madre tutto su mia madre shalom pirati livelli tutto su mia madre 7 riguarda riguarda tutto l'ambivalenza di tutte le cose di tutte le emozioni che lei prova verso sua madre e di tutte le esperienze legate in maniera diretta indiretta alla madre c'è veramente tanta roba intorno alla madre c'è di tutto di più si potrebbe dire veramente allora shalom è questa un po' tendenza allora al volere la pace e il benessere di tutti anche a costo del del proprio sacrificio della propria sottomissione del mettersi completamente da parte pur di far del bene agli altri pur di non creare scompiglio e allo stesso tempo anche rimanendo un po' come dirti invisibile livello direi 4 o 5 pirati questa entità mentale che l'ha fatta essere in tante occasioni come depredata no immaginati proprio i pirati che vanno a rubare a saccheggiare e lei proprio si è sentita così da diverse situazioni ma perché ovviamente lei si è offerta in questa maniera quindi lei ha dato tutta se stessa ha messo da parte tutte le sue volontà i suoi desideri e si è fatta prendere tutto rubare tutto quanto anche la stima di se stessa anche l'amore per se stessa livello 5 elena allora ne vedo anch'io tre sono molto simili tutto su mia madre sostituzione amorevole la chiamerei e prende la vedo che prende un po' di più come diceva anche marca in senso tutta la sfera diciamo affettiva degli affetti familiari ok quasi come se lei avesse preso un ruolo diverso quindi si fosse sostituita a sua mamma quindi come se lei si sente di dovere si è sempre sentita questa entità mentale fa sì che lei da sempre se si abbia preso il ruolo di sua mamma quindi come compagna del papà e mamma di sua mamma e mamma di tutti ok quindi questa entità mentale che le fa credere che è suo dovere fare tutto questo prendersi cura di tutti al posto della mamma la seconda shalom la vedo proprio come mi viene il termine proprio in sordina ecco il termine è sordina cioè mi faccio piccola poco con che mi faccio sentire poco perché non sono adeguata e devo quasi nascondermi no poco come diceva monica che è quasi come se non doveva essere farsi vedere perché non 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 era all'altezza di farsi vedere non è diciamo quello l'entità mentale quello che le fa credere a questo e la terza che monica l'ha chiamata aspetta non mi ricordo e pirati ah ecco sì sì era proprio mai venuto proprio nome senza memoria senza pensieri nel senso che questa entità mentale che lei ha accettato ha fatto sì che fa sì che lei non si ricordi le cose ok ma dall'altro canto è come se le facesse credere che se non si ricorda le cose ha meno i pensieri ok quindi la tiene lì perché in questa maniera non va verso in una direzione costruttiva per lei non avendo diciamo dinamicità no con i ricordi e gli spunti ma rimane sempre a un livello da un certo livello che è controllabile dalle dalle interferenze dalle entità mentali questa la vedo di un livello 3 4 le altre cinque sette Elena causa esoterica del doppio destro sinistro cancro al seno è questo doppio ruolo che la divideva in due la divide in due da sempre questo dover essere figlia ma madre compagna ecco essere divisa in due doppio ruolo dicotomia ok proprio sugli affetti sul dover diciamo il seno è la femminilità quindi l'accoglienza il nutrimento e la crescita no delle altre persone quindi proprio essere mamma e essere divisa in due ruoli e non riuscire a trovare il suo ruolo ecco questa cosa qua Monica allora sei il serpente a sonagli di cui hai parlato prima no mi fa vedere che gli va intorno al seno sinistro è un serpente velenoso le morde il seno sinistro e poi va verso il seno destro e morde pure il seno destro e mi fa vedere come se una parte fosse la madre intesa come sua madre e l'altra parte intesa come lei come madre il destro avvelenate entrambe le parti avvelenate intossicate causa esoterica prima Monica poi Elena del fatto che per risolvere la cosa sono corse due operazioni per seno quindi quattro operazioni prima per rimuoverlo e poi e per mettere la protesi e poi nuovamente la protesi nella sua vita ci sono molti tormenti di questo genere per cui non alla prima volta lei riesce a risolvere una situazione ma deve ripetere perché tutto deve essere reso un po' più complicato per lei e proprio anche l'entità mentale pirati io ti devo portare via tutto ok ti devo depredare di qualunque cosa per tanto non ti posso dare subito un bel seno nuovo è che tu torni nella tua femminilità nella tua bellezza ti devo fare comunque molto penare Elena? sì è una cosa simile nel senso che lo stesso cioè la stessa cosa che ha visto Monica con in più aggiungerei che appunto c'è questo meccanismo dove sì se tu scegli la strada che è più evolutiva che ti fa crescere più dinamica allora noi te la rendiamo molto più tortuosa e se tu scegli la strada che noi ti indichiamo che è quella molto piatta molto statica sarà tutta molto liscia ecco quindi le fanno credere che le sue entità che si è scelta fanno sì che lei per prendere la strada più evolutiva sia più tortuosa molto tortuosa Elena causa esoterica dell'epatite c ovviamente noi chiediamo la causa esoterica non siamo medici facciamo finta che facciamo un gioco chiediamo la causa esoterica dell'epatite c o del cancro ovvero facciamo un gioco che non ha nessun fondamento e non ha nessuna credibilità lo scriviamo nei documenti lo scriviamo lo diciamo in sessione ogni tanto lo ripeto ogni tanto non ho voglia l'epatite c sì allora mi è arrivata proprio l'immagine dell'esatto momento in cui diciamo il suo corpo ha accettato di prendere appunto il virus dell'epatite c ok era un momento vedo questo momento dove lei era molto bassa di vibrazioni come se ci fosse stato un evento nella sua vita molto traumatico la perdita di qualcuno o la perdita di qualcuno di cui lei si prendeva cura magari anche per lavoro ok da tempo c'è questa cosa qua che poteva a cui poteva essersi legata affettivamente per qualche ragione ok in quel momento lì di alta fragilità sono le sue interferenze hanno fatto sì che lei si ammalasse di epatite c sì sì infatti che siamo all'asse di epatite c e monica e sì lo vedo legata a questo discorso di cui ha parlato Elena dell'accudimento come se andando addirittura più in profondità la ps non ne potesse più di accudimento infatti il lavoro che lei faceva era comunque un lavoro in cui doveva seguire persone bambini mettersi a disposizione curare è stata come una reazione per dire adesso basta tu per gli altri devi iniziare a essere tu per te stessa e monica causa esoterica dei dolori alla parte sinistra sia del corpo sia il seno sinistro sai che io lì l'ho visto molto legato al padre allora io vedo che nonostante lei in qualche modo abbia ripristinato il suo rapporto con il padre è come se le siano rimasti tanti sensi di colpa è come se lei non sia mai riuscita veramente a trasformare in maniera completa la morte del padre è come fosse un lutto che dura da quando è accaduto da quando lei è una bambina ed è come se lei siccome lei si assume tutte le responsabilità del mondo è come se lei in qualche modo vivesse in questo senso di colpa anche quasi il rapporto fra lei e la madre è molto particolare Gaia nel senso che lei si deve sempre assumere questi pesi questi carichi e lei si prende lei addosso tutto quanto se la prende lei sulla schiena in quella zona lì lombare che è fastidiosissima che ti dà fastidio a fare qualunque cosa no quella zona lombare perché appena fai uno sforzo ti arriva quella fitta terribile no lei si assume tutte le responsabilità anche quelle che non la riguardano anche quello che poteva essere la morte del padre il rapporto tra la madre e il padre e tanti sensi di colpa sempre e ne ha avuti parecchi rispetto al padre Elena sì allora allora prima l'immagine che mi è arrivata è proprio questa sua divisione in due delle due parti del corpo quindi una più proprio fisiologica no il corpo fisico carnale fatto di carne ok invece la parte sinistra del corpo di Gaia fatta quasi che sembra quasi di metallo quasi di acciaio no quindi quella parte fredda dura che deve tenere botta che deve sostenere tutti no quindi deve essere che sostiene qualsiasi peso e in più le due zone che dove lei dice che ha più dolore che sono spalla braccio e a parte lombare proprio il sostegno quindi parte lombare proprio portare in spalla portare come si dice in spalla qualcuno no però non in spalla quando le porti sulla schiena si uno sentiremo e te lo carichi spalle ok e quindi proprio portare solo tutta la vita portare le altre persone tutta la vita spostarle lei no quindi occuparsi delle altre persone e poi tutta la parte spalla braccio che è proprio quella del sostegno sostegno sulla spalla portare il gioco proprio e proprio abbracciare accudire quindi sono proprio le due zone che l'hanno accompagnata tutta la vita anche a livello fisico proprio che gli vogliono dire se i seni e sia quelle zone di sono proprio diciamo la sua il suo life motif è proprio sostituirmi agli altri e fare tutto per gli altri quindi ora anche basta impianti elena e c'è proprio questa l'olp impianto che mi viene proprio questa corazza d'acciaio che ricopre la parte sinistra del corpo proprio una corazza ma proprio anche fino al viso la testa tutto assomiglia a quella del del combattente medievale o qualche animale che non si può sei tipo il personaggio di star wars il caso no 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 quel robot ai vengono per il piloro penso vabbè la quello umanoid quello d'oro sì esatto quindi una metà del corpo così monica impianti no finito se ce n'era ce n'è uno mentale che tipo sai quelle sfere che se le tocchi fanno le scosse colorate se ecco una sfera così al centro della testa che emana queste scosse colorate in tutta la testa viene utilizzata dall'entità mentali comunque insopportabile tra l'altro aggiungo genitali ok monica andiamo all'età di 11 anni di gaia muove padre un caos di emozioni lei spesso è caratterizzata da emozioni contrastanti e si rimprovera molto di questo fatto di provare emozioni contrastanti e si colpevolizza di quello che accade allora da una parte la figlia ferita mi manca mio papà dall'altro è sì però mio papà non mi voleva poi così tanto bene dall'altra parte è ho bisogno di proteggermi da questo dolore e quindi mi ricordo soprattutto il fatto che mio padre non era tanto affettuoso nei miei confronti è tutto un avvicendamento di emozioni di sentimenti contrastanti e adesso come si farà mia madre non è in grado di prendersi cura della famiglia dovevo fare io e sono tanti sentimenti aggrovigliati tutti insieme troppo per questa bambina si è come se l'essito si fosse trovata diciamo poi anche il momento dell'adolescente dello sviluppo ok dove inizia a diventare donna quindi si è trovata a diventare donna senza avere una figura paterna vicino ok di colpo con una mamma che c'era non c'era perché lei non la sentiva non la sentiva di sostegno è tutto ad un colpo le si è trovata appunto a dover fare tutto questo carico che si porta da tutta la vita ma da bambina di 11 anni quella cosa lì allora in eterico vedo però questa cosa è come se c'è stato un istante che in eterico le due ps quelle del papà e la sua si sono trovati come se si mettessero a tavolino a discutere il da farsi ok è per tutti e due la cosa la soluzione migliore per prendere l'esperienza migliore per tutte e due è stata che hanno deciso che il padre doveva morire in quell'istante e lei doveva fare la sua vita al resto della sua vita senza monica è che sì questo sì ed è come un senza ma con perché lei gaia è fatta così e di questi contrasti di questi conflitti continui sono senza ma allo stesso tempo lui è sempre con me me lo porto sempre dietro come senso di colpa come senso di responsabilità chiamiamolo tale aureo insieme a tutti i disincarnati di tutte le generazioni di gaia padre in primis in primo piano io ti dico come mi si presenta poi non so se realmente era così no molto rotondo diviso anche abbastanza robusto di corpo molto serio con le mani così quindi in osservazione sì elena mi appare come se fosse appare come se fosse tipo conte dracula quindi con proprio questo mantello da da vampiro eccono come se avesse quelle energia lì ma già come se anche in vita avesse quella energia lì come se si aggrappasse alla vita degli altri per rimanere in vita ecco successe proprio la vita degli altri per poter rimanere in vita non sapeva fare diversamente già dagli una vic e lena e mettiamo gaia di fronte al padre lui si dice è andata bene così perché comunque l'energia che avevo di prendere l'energia degli altri saresti non saresti sopravvissuta a lungo dice e poi è come se volesse far vedere far vedere a gaia in questo momento la loro affinità animica e le fa vedere un'immagine di una di un'altra vita che hanno vissuto assieme dove erano fratelli gemelli maschio e femmina e dove si comunicavano telepaticamente che cosa è successo allora sono diventati comunicando telepaticamente come se riuscissero a essere completi energeticamente anche mi fa vedere sono diventati entrambi tutti e due dei grandi medici erano posso dirti torno all'anno 1700 così dove la medicina era ancora fatta con le cose naturali le erbe così erano diventati dei grandi medici addirittura famosi nel paese in inghilterra ok e venivano chiamati in tutta l'inghilterra vedo che dice bambina basta basta con questi sensi di colpa lo vedi che le cose che ti dovevo insegnare e infatti mi fa riferimento a questa vita qua in cui loro erano in comunicazione telepatica no lo vedi che le cose che ti dovevo insegnare te le ho insegnate in un'altra maniera e noi adesso abbiamo un buon rapporto ok che cosa vuole dire padre la figlia questa vita dura questa vita dura è la vita che ti ha fatto diventare mi fa vedere tipo questo albero che spara dei fiori sul tronco e vuole indicare quello però che allo stesso tempo mi ricorda anche tipo una cellula spara dei fiori sul tronco spara dei fiori sul tronco cioè gli escono di fiori sul tronco sì dal tronco ma spara in quel senso ok elena sì la tua scelta animica di percorrere la vita con tutte queste difficoltà era proprio per farti arrivare al livello che sei ora la persona che sei ora con l'amore che tu senti dentro e che trasmetti ora ok non serve a niente avere sensi di colpa non c'è niente che è giusto sbagliato tu hai fatto del tuo meglio per gli altri ora tocca che tu faccia del tuo meglio anche per te e la braccia la carezza e mentre la carezza è come se hanno questo proprio c'è questa affinità da vite passate e a livello eterico energetico come se si fondessero tutte le volte quindi mentre la carezza la sua mano diventa parte di gaia va bene lo salutiamo allora ci vuole lasciare con un'immagine sento che dice ricordati sempre della tua bellezza la bellezza tua fuori e niente rispetto alla tua bellezza dentro l'immagine è come se mostrasse a gaia la sua stessa aura di amore va bene lo salutiamo e chiudiamo a portare auroreo cinema ex marito e mamma bambina la mamma dice ma mi hai lasciato da sola qua adesso per tutto questo tempo io come faccio devo andare in bagno ma già entra nel cinema viene se si così con queste lamentele un po così che ha bisogno un po piagnucco lina ecco come una bimba sì io vedo proprio anche come bimba nel senso che muove le gambe sulla sedia con i bambini così e da queste lamentele arriva in soccorso il nipote viene anche lui nella cima ma aiuto ma no c'è la parola è proprio presuntuoso arrogante interessa l'amico di gaia che è lì vicino a lei adesso certamente ok c'è come se in un certo senso la tenesse per mano c'è una causa esoterica monica al fatto che lei scambiato per il marito per un mini stante magari la vita precedente e ma cosa posso dire no ed è la vita attuale nel senso cioè li vedo molto anime affini anche io quello da solito quando Monica si sistema i capelli sono guai sono camera e poi quando lei dice ma non rispetta dice è a quella è una condanna di quelli più una e l'altra ma è ma va bene cinema l'abbiamo fatto vabbè la morte del padre causa ansia paura attaccamento la madre questo lo sappiamo insomma causa tutta lega del fatto che il rapporto con il marito si deteriora tanti anni fa alla nascita del figlio chi vuole l'ha sostituito al marito è proprio come se lei si fosse liberata se il marito non so come dirmi viene in eterico scambio questa cosa qua si questo succede anche con il padre con la figlia e e lo scambio avviene quando non c'è un veramente un matrimonio fatto così edificante è così ed è così in questo caso sì questo caso così allora ed è tutte e due le cose nel senso prima era lei col padre ok quindi lei che ha fatto la donnina di suo papà e poi lei col figlio Monica qualcosa da aggiungere sì perché non doveva più fare la madre al marito ma ha fatto la madre effettiva no del proprio figlio perché quando si parla dell'entità mentale tutto su mia madre è proprio anche lei che fa sempre la madre in qualunque contesto fa la madre per sua madre la madre per suo figlio e qui ci siamo la madre per suo ex marito quando era marito esatto non ci siamo madre sempre gaia madre madre gaia fatti causa tutte le carena dei cali di memoria sentita mentale quella livello 45 senza memoria senza pensieri sentita li ha toglie proprio dei ricordi facendole credere che senza quei ricordi vive più leggera quindi a volte magari non ci fa caso poi invece adesso che inizia a farci caso dice no io la mia memoria la voglio questo svegliarsi della ps arrivato anche qua per fare un certo passaggio come se oggi gaia sia arrivata a un punto dove dice ok con questa sessione faccio un salto adesso cambia proprio tu di colpo no quindi non è da qua in poi non vuole che sia graduale ma un primo salto lo vuole fare subito immediato ecco mi fa vedere questa cosa qua monica l'entità mentale pirati no mi ha proprio di tutto anche delle parole che sono importanti per te da usare nei momenti in cui devi fare i discorsi nei momenti in cui sei in pubblico ti tolgo le parole così ti lascio completamente nuda a disagio mortificata però giustamente come ha notato Elena adesso Gaia vuole riprendersi il tesoro che i pirati le hanno portato via e lo vuole riprendere adesso monica causa esoterica della disnomia cioè problemi di espressione ma questa è proprio questa qui ho appena detto idem se si sono d'accordo se Elena bassa autostima era l'altra non mi ricordo nello non so io sì esatto sì 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 è quella lì proprio che la bassa autostima che le fa proprio credere che lei non è all'altezza di niente e di nessuno di nessuna situazione quindi addirittura la fa parlare con una voce leggera quasi che non si sente e che si nasconde cerca di non far di non essere vista di passare inosservata invisibile anche per te Monica sì però voglio dire che è un problema di ego nel senso che magari molti di noi pensano che l'ego sia sentirsi presuntuosi come è il marito e sono esattamente l'uno lo specchio dell'altro perché tanto l'ego è forte in lui ma tanto anche in lei è forte perché l'ego è anche quello che ti sminuisce così tanto per cui lei di fatto ha un ottimo spunto in suo marito per capire quanto l'ego sia traditore anni fa no tempo fa ti parlavo Monica di una persona che aveva avuto questa specie di illuminazione no ed era sempre a fare incontri e ti avevo parlato della dell'espressione cane bastonato te lo ricordi siamo lì no un problema di ego al contrario esatto in effetti quando gli proponevo una visione altra assolutamente non è così è certo che è uguale a proporre un'alternativa a il tronista di uomini e donne no non dice ma no ma io mi dè sopracciglio così e così va bene io mi pettino così e così va bene io funziono così e sono bello perché funziona così insomma non c'è alternativa va bene Monica Gaia il sesso aspetta detto così e cioè allora dunque allora lei mi si presenta proprio così no come madre natura che potrebbe veramente ricavare una quantità di energia incredibile dalla vita sessuale nel senso che proprio lei quasi in maniera non so come dirti tantrica no come in maniera completa lei veramente ha la capacità di vivere il sesso a 360 gradi con mente cuore anima spirito addirittura per dirti oltre il corpo ovviamente coinvolgendo l'universo non so come dirti è proprio una roba cosmica quando lei fa l'amore e la questione è che chiaramente ha dei sensi di colpa riguardo a questo se lei leva i sensi di colpa se lei li toglie riesce a rimuoverli ricava veramente anche una un immensa aumento di autostima e molta più creatività già di quella che ha lei è un'energia sessuale incredibile sì mi ricollego ai sensi di colpa che Gaia ha in questo ambito che hanno fatto sì che lei stesse diciamo ferma lì con con suo marito anche se il rapporto vero e proprio non c'era più perché in quella maniera poteva darsi la giustificazione no che comunque la vita sessuale con suo marito non andava e quindi poteva evitare di fare appunto l'amore come lei come l'ha descritta monica no quindi questa cosa che va oltre cioè che è proprio a livello energetico molto potente ma in questo caso qua avrebbe avuto i sensi di colpa di un retaggio anche familiare no come se quella cosa lì non è non è da farsi quindi stando lì ferma con suo marito toglieva un po' questo problema ecco ma in realtà poi a un certo punto lei ha proprio sentito che la sua necessità di vivere l'amore in questa maniera come lei proprio di sentirlo profondamente ha visto che la sua esigenza era talmente forte che senza sentiva morta cioè la propria morta ok andiamo alla casa immersa nella natura che si è comprata andiamo alla causa esoterica del non riuscire facilmente a finire i lavori e andiamo a vedere cosa è successo dall'installazione di vari cristal del cristal e dei vari organi in questa casa chi vuole iniziare inizi beh allora quella casa andare a vivere in quella casa lì significa iniziare la vita nuova la vita quella del salto ok quindi finora con tutti i sensi di colpa non coraggio non sono all'altezza ok si è creata tutte le situazioni per far sì di non poter andarci a vivere con mille scuse tra virgolette no mille impedimenti per non andare a vivere quindi questo è il motivo per cui non ci vive ancora devo dire che tutte le installazioni di tutti gli organi che ha messo nella casa a come sbloccato un po questa situazione fino a farla anche arrivare ad oggi è quasi come se il suo legame con quella casa che allora la presa la comprata la ps la portata a comprarla proprio per creare il primo presupposto per fare il salto ok alla nuova vita il fatto che lei abbia installato tutti questi organi ha fatto sì che arrivasse oggi per rendere concreto veramente il salto a questo punto monica quella casa e lei c'è proprio riesco quasi identificare no questi oggetti scelti con cura questi oggetti ristrutturati no mi fa vedere lei che riesce proprio a svecchiare i mobili a dargli una nuova faccia nuova vita proprio agli oggetti e la natura e lei è proprio la rappresenta al cento per cento a me quello che viene è che se lei riesce a tagliare in maniera veramente più chiara e più decisa con l'ex marito questa casa si sblocca c'è un legame con questa cosa beh il marito non se lo porta in canna e la nuova casa non penso non però incide se ci va col col marito non funziona c'è quella casa lei è casa sua quindi è come se lei fosse un po bloccata nel far fiorire no e avviare completamente questa casa dal fatto che di fatto non so non ha ancora ben chiuso quella cosa lì e quindi le sue energie sono proprio molto più lente molto più soffocate perché ancora imbrigliate in una roba ormai vecchia è così monica e elena sì sì è proprio quella la il salto è fondamentale quello che cristal allora è come se in un certo senso aspetta questa cosa si può dire sì è come se lei avesse preso parte alla realizzazione quasi no come se ci fosse dentro il cristal una parte di lei c'è così ecco questo elena è allora sì una parte di lei connessa all'amica a settimana di mistica e riempilo tu sarà da rebus rebus e rebus gaia è unita all'amico madre gaia rebus gaia causa esoterica della scelta di questo nome la mamma è venuto fuori la madre proprio gaia e la madre terra no quindi la terra è proprio la rappresentazione per eccellenza della madre no madre terra madre natura madre sua madre madre lei madre madre di chi della terra anche c'è let's deve fare talmente tanto ruolo di madre che quasi sente la madre della terra proprio ecco va bene cosa vuole fare questa madre adesso mi fa vedere come se raccogliesse in sé tutte queste energie che ha dissipato è come se le riprendesse per sé le riconcentrasse dentro di sé c'è così carica va dal cluster c'è non ce n'è si è la rappresentazione che mi fa vedere è proprio lei che si è come se si fosse ripresa tutti i suoi pezzi lasciati negli altri virgolette ok quindi è proprio tutti i pezzi riuniti chiusi in una sfera ok e tutti gli altri messi a distanza ora c'è lei spera che va per lei per sé stessa ok cosa trova nel cluster allora me lo fa vedere come se fosse un igloo quindi si vedono proprio anche no i bordi dei mattoncini di ghiaccio di un igloo con queste è come se i suoi contratti fossero tipo delle di far vedere come se fossero delle casette di legno ogni vita è una casetta di legno ed è come se rimanessero appiccicate alla parete al ghiaccio dell'igloo si sta prendendo un portale definitivo che è come se fosse la porta dell'igloo e poi tutti queste casette che nel tragitto non so come mai come si trasformassero in orologia cucù proprio anche con la faccia del gufo quasi ok mentre vengono spostati dentro al portale definitivo che vanno tutti nel portale e lo chiude più o meno così anche per te monica sì perché queste mattoncini dell'igloo a me le presentava come le zollette di zucchero e mi diceva che erano amare però già per una fredde per l'altra amare amaro adesso non c'è più no no è nel portale definitivo ma lei è sicura ma c'è picchia adesso basta e cosa mette al posto io la vedo proprio c'è una d'eternum che sono immensa conchiglia bianchissima madre perla che ha una luce fulgorante proprio e io ho visto invece un cerchio di crystal buster stessa cosa avatar che fa tipo come se avesse mille braccia no perché ecco con alcune con un braccio cucina con l'altro braccio sistema casa con l'altro acudisce così lo tiene no basta prendere il portale definitivo tutto dentro e qui cosa mette e ora mette di nuovo i cerchi di crystal buster con dentro la conchiglia al centro monica con la sua manualità con anche con il suo gusto artistico è come se velocissimamente mettesse tutta una serie di conchiglie a creare un'altra spirale tutte quante colorate e in mezzo frammezzate anche da petali è bellissimo è molto creativo questa d'eterno benissimo con questa nuova condizione curiosity che the cat il progetto e tutte le entità eteriche mentali impianti eventuali ad action ci sono ancora no no perché perché lei ha deciso di resettare tutto e fare il salto perché non l'ha fatto prima monica qualche cosa aveva già iniziato a fare però si era talmente accumulata una mole di cose di sentimenti di vicende che non riusciva da sola aveva bisogno di un supporto e poi io sento che lei percepisce molto la connessione che tutto è uno che tutti siamo collegati e che quindi noi potevamo fare qualcosa per lei e insieme a lei messaggio elena finale di gaia se stessa allora melo melo mi fa vedere questa immagine e poi scrive una frase davanti quindi è lei che fa così con le braccia man mano che fa così la luce dentro si espanda all'esterno ok e si dice non implodere ma esplodi esplodi proprio questo vedere lei che vuole vivere appare sorridente allegra e felice Monica tipo sono una femmina meravigliosa come se avesse in qualche modo ridimensionato tutta questa questione della madre come se sentissi proprio la carica femminile fortissima dentro di lei sia proprio come creatività sia proprio anche come carica sensuale una potenza incredibile monica nuova vibrazione 712 miliardi che 6 198 7 9 8 6 9 8 nuova consapevolezza elena 186 monica un po di più 198 scusate perché la consapevolezza non arriva a livelli alti 7 800 per cento perché no lì sono capacità medianiche che vengono che a quel livello lì si abbinano a una capacità medianica dell'utilizzo di cervello intorno al 70 80 per cento qual è elena la consapevolezza di Monica 328 monica qual è quella di elena 351 qual è quella di lucio 343 41 se 341 di vince elena è così oggi ma è sempre così o solo oggi secondo me più o meno tutti e tre tutti i giorni aumentiamo la consapevolezza magari un giorno più uno più l'altro però stiamo proprio si muove si stanno noi più su elena la ps di gaia 73 670 le vite di gaia monica 1850 51 me ne fa vedere molti meno 1473 cervello di gaia 9.7 9.7 immagine di gaia finale con aggettivi colori fiori animali idee futuri possibili note musicali profumi frutta ortaggi ortaggi il botone 12 di questo era proprio allora appena l'hai detto l'immagine che è arrivata è come se ci fosse una fontana sua nel suo giardino ok una vasca ok e lei al centro dove le sue gambe praticamente è formata da vari elementi della natura partendo da dei petali e poi c'è tipo un bulbo di una qualche radice che potrebbe essere coltivata e poi salendo ci sono tutti dei rami e qua davanti escono dei fiori di orchidea e poi dalle braccia invece escono proprio dei rami di alberi ok e in fondo e le dita sono fiori e frutti diversi 10 diversi e poi la testa invece tutto un cespuglio di un albero grande Monica allora l'ho vista anch'io in questa specie di vasca rigenerante dove lei è come una pianta multiforme che sta prendendo tutto il nutrimento da questa vasca però allo stesso tempo mi fa vedere vicino tipo una specie di comodino da che l'aspetta per essere ristrutturato rimodernato una cassettiera un comodino cassettino ok quindi la vedete bene ma la casa un luogo di felicità se siamo di felicità suo sono suo sì va bene disconnettetevi da tutto e tutti